Oggi siamo qui anche per capire, secondo me, e colmeno il mio punto, capire quali iniziative di informazione e voi per primo dovreste farli tutti i media uniti per informare i cittadini di quello che sta succedendo alla nostra Costituzione. Voi siete responsabili, siete in prima linea, voi mezzi di media, mezzi di informazione, giornali, televisione, per informare i cittadini su questo. Ed è basilare, perché senza l'informazione adeguata una democrazia non è tale.